E' stato condannato a otto anni di reclusione Alessio Blasi, il ventenne riconosciuto come responsabile dell'aggressione razzista e violenta fatta di calci e pugni nei confronti di un 24enne senegalese nel parco Rossani di Bari. Era il 5 aprile 2022. Blasi, come ricostruito dagli inquirenti, colpì la vittima con un violento pugno allarcata dell'occhio sinistro provocandogli lo scoppio del bulbo oculare e la perdita permanente di un occhio, per poi continuarlo a colpire con calci e pugni nonostante la vittima fosse ormai caduta a terra. L'aggressione partì dopo che la vittima aveva chiesto spiegazioni a Blasi per uno sguardo di troppo. Il ventenne rispose minacciandolo e rivolgendogli insulti razzisti. Infine lo aggredì con violenza. Il collegio dei giudici ha riconosciuto le aggravanti dell'odio razziale e dell'aver commesso il fatto in presenza di minori, ma anche riconosciuto le attenuanti generiche in favore dell'imputato. Nel corso dell'ultima udienza, svoltasi a maggio, la PM aveva chiesto la condanna a sette anni di reclusione. I giudici hanno anche disposto il risarcimento dei danni in favore della vittima da quantificarsi in sede civile.